Un Halloween che dura quattro giorni chiuderà la stagione 2012 del parco di Mirabilandia. Tra streghe, fantasmi e tunnel dell'orrore, la festa si concluderà con una grande parata di mostri e fuochi d'artificio. E naturalmente con molti ospiti, primo fra tutti Giancarlo Fisichè, la grande campione di Formula 1, reduce dalla vittoria della 24 ore di Le Mans. Mirabilandia dà appuntamento per la riapertura il 29 marzo del prossimo anno. Lo sport con la box.